I caribinieri di Santa Maria Maggiore hanno denunciato un cinquantenne di Druogno, responsabile del danneggiamento di due Velobox. Le indagini erano partite nel mese di novembre, quando i militari erano intervenuti nel paese Vigezzino a seguito del danneggiamento di due colonnine per il rilevamento della velocità lungo la statale 337. Le stesse, che erano state acquistate dal comune con lo scopo di ridurre l'incidentalità stradale e controllare la velocità nel centro abitato, erano state notate dal sindaco Marco Zanoletti il mattino del 12 novembre, divelte ed appoggiate a terra. Le indagini si sono avvalse anche dall'analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza, con le telecamere che quella stessa notte avevano ripreso una persona a piedi vicino a Velobox. Un'inquadratura in particolare riprendeva i momenti in cui la struttura veniva divelta e buttata a terra. Il cinquantenne è stato denunciato per danneggiamento aggravato, il cui valore del danno è stato valutato in oltre 2.000 euro. Grazie.